E va bene, ci siamo, eccoci qua. Otto? Becky, tu sei la mia rosa. Posso essere la tua spina? Otto, la mia risposta è ovviamente... Aspetta, 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 questo assolo è da paura. Tesoro, puoi abbassare un po'. Ok, ma spero che ne valga la pena. Sì, ho deciso, ti sposerò. Che figo! Rex!